La prima volta di cantare, sia che sia live, sia che sia showcase, sono abbastanza tranquillo. Stasera sono abbastanza tranquillo. Stasera è come se fossimo un rodaggio, è una preparazione a quello che poi andrò a fare durante l'anno. Alza un po' il rodaggio. Mandiamo prima solo le sequenze, le assegniamo in cuffia. Il progettivo. Riciniamo. Basta gli altri. Mi capita di trovare ispirazione da ciò che mi piace, quindi sì. Anche tutto quello che mi circonda. Qualsiasi tipo di musica che possa comunque per me avere qualcosa in più può essere avere quell'originalità. Cerco di portarlo su quello che faccio, sulla mia musica. Siamo persone che ci conosciamo già da tempo e lavoriamo già da tempo tutti insieme. Quindi comunque c'è già una sorta di rapporto che va oltre il lavoro e tutto. Ecco, io canto perché mi piace cantare. Perché so che comunque dall'altra parte c'è sempre un interlocutore che mi rasserena, ecco. E questo continuo. Quello che volevo, voglio principalmente dire è che ci sono e che sono cresciuto e che vorrei esserci ancora per un po'. Grazie a tutti.